49 anni fa il terribile terremoto nel Belice, con 370 vittime, migliaia di feriti e 70.000 senza tetto, interi paesi distrutti o fortemente danneggiati. Lo ricorda oggi la CGL che in occasione dell'anniversario esprime alcune considerazioni sulla situazione in cui si trova ancora questo territorio. La prima è che, malgrado l'enorme tempo trascorso e al netto delle tante parate governative fatte in questi anni, quella del Belice resta una ferita aperta, non rimarginata, segnata ancora dalla mancata ricostruzione di tante infrastrutture. Per tanti anni, troppi al Belice è stato negato quello che, in casi analoghi in altre parti del Paese, hanno chiesto ed ottenuto. Da noi, evidenzia Massimo Raso, né ricostruzione al completo, né l'agognato sviluppo economico, né Fiat né altro, solo la disperazione e l'emarginazione che costringe, ora come allora, l'emigrazione. La seconda considerazione riguarda la lezione che da questi tragici fatti avremmo dovuto imparare, aggiunge il sindacalista, ovvero che occorre mettere in sicurezza i Paesi e mettere in campo ogni iniziativa utile per essere pronti di fronte ad altre venienze. E invece neanche questo. CGL che poi annuncia la sua partecipazione questa sera a Montevago alla Fiaccolata per ricordare le vittime del sisma e per sottolineare insieme ai dipendenti della Calcestruzzi Belice che si deve evitare anche questo terremoto sociale che in una piccola comunità significa la perdita di 11 posti di lavoro. Solidarietà e vicinanza ai lavoratori dell'impresa confiscata dalla mafia è stata espressa anche da Cittadinanza Attiva di Sciacca. Grazie. Grazie. Grazie.